Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Gassi di lancio L'individuo L'individuo in discesa nell'area operativa L'individuo in discesa Scusate L'individuo in discesa passare alla prossima area soldato nemico in arrivo qui c'è un bersaglio un attes soldato nemico in arrivo UAB nemico in volo meccato attacco a grappolo nemico al riparo contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato avete del gas in arrivo soldato nemico in arrivo nemico in arrivo siamo nella zona sicura ancora 25 attivi nell'area operativa maadri maadri avete un lancio di spacciamento in arrivo tutte le casse di sorte trovate un ottimo lavoro bersaglio taglia identificato fuoco su quel bastardo vedo un approvvigionamento gas in arrivo alla nuova zona sicura alla nuova zona sicura alla nuova zona sicura nemico in discesa nell'area operativa Come on, come on, come on. 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 We go down. Come on, come on. Soldato nemico in arrivo. Oh, he's coming. He's flying. Nemico abbiscato. Come on. 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 No. There's a gun. Look at this. We're going to kill him. We're going to kill him. No. No. They're attacking us. There's a gun. There's a gun here. I'm going to use something. Okay. You put it down? You put it down? Yes sir. But. You're in the last. We need a bad mask. What's up? Oh. Oh. That's good. You. Come on. Come here. Come here. No. Come on. Ah, che fbi! Non ti abituo, ci sono io! Soltato il linko in arrivo! Ah, che fbi, pock! Ah, che fbi! Fbi, che fbi, pock! Ah, che fbi. Ah, che fbi! Cosa è stato? Oh, dei colpi di grosso, ok C'è lì? Guarda lì, c'è lì Cosa è stato? 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 Oh, mio Dio! Zero kill! Cosa è questo? Cosa è questo? Cosa è stato? Cosa è stato? Cosa è stato? Un bel giallo! Attacco a Grappolo alleato in arrivo! Cosa è stato? 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 Cosa? No hanno! Quo c'è parte della zona consiglia? Passate su, quando c'è lui? Alla구 trasferselling vuoi! Please Dassalcoat! Can還有 la parte della zona? qui? qui? oh qui? qui? we'll fly now He is off the wall hop down Kassi yes, I reach behind On the other side They are left 5 Let me focus Two V Two We got it Kassi tuo Just wait Just wait There were diner It's behind the wall He is behind it Non c'è il giro Non c'è il giro Qui è il giro? Qui è il giro? Qui è il giro? Allora, v1 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 V2 V1 V1 V2 V2 buttami del lago guardami di Giorgio guardami di Giorgio un'ultima possibilità l'ubb guardami 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 Non, 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 io hoółto Lo u'ho fatto Raffrono Grazie a tutti.